Sicurezza alimentare e agroambientale. E questo è il titolo di un convegno tenuto sighieri ad Andrea presso l'auditorium del liceo classico Carlo Troia e organizzato da Laboratorio Cittadino Fare Ambiente con l'obiettivo di sensibilizzare il consumatore finale all'assunzione di atteggiamenti più oculati e attenti al momento dell'acquisto dei prodotti alimentari. Il tema è particolarmente interessante soprattutto alla luce di quello che è successo qualche settimana fa con il sequestro di decine di migliaia di mozzarella importate dalla Germania che avevano assunto una colorazione blu a causa di un batterio. La qualità dei prodotti alimentari e agroalimentari va pagata quindi quando in commercio ci sono alimenti che vengono venduti a prezzi bassi beh quello deve rappresentare un primo campanello d'allarme che deve mettere in guardia il consumatore prestare attenzione a ciò che acquista. Abbiamo la necessità e il dovere di informare la gente, fare in modo che la gente sappia cosa deve comprare, cosa deve acquistare in maniera più specifica sapendo che quello che costa un prodotto non può essere apportato al valore qualitativo di quel prodotto. Un prodotto che costa pochissimo sicuramente non dà certezza di qualità ma soprattutto non dà certezza e garanzie di un alimento sano e diciamo prelibato. Io credo che da questo punto di vista abbiamo la necessità di avviare una nuova sensibilità dei consumatori e il convegno sulla sicurezza alimentare e agroambientale mira proprio a questo obiettivo, fare in modo che la gente capisca che quello che acquista nei supermercati e negli ipermercati merita di essere guardato, osservato e soprattutto rapportato al prezzo. Un prezzo basso non è sinonimo di qualità.